Il campo di sterminio di Auschwitz era stato ormai liberato da un anno. Centinaia di migliaia di persone però non avevano fatto ancora ritorno a casa. Tra loro anche Alberto Segri, padre di Liliana. Insieme all'attuale senatrice era stato deportato in Polonia nel febbraio del 1944 e appena due mesi dopo aveva trovato la morte nelle camere a gas. Non lo sapeva la figlia e neppure il suocero, l'avvocato Alfredo Foligno. Che come testimonia una lettera ritrovata nell'archivio della comunità ebraica di Siena si rivolgeva al rabbino dell'epoca per avere informazioni. Lascio considerare a voi con quanta ansia io attenda notizie. Si legge nel documento e voglio sperare che Dio mi ha dato la grazia di riavere la mia nipotina Liliana. Mi conceda la gioia di poter riabbracciare il mio genero. Mio padre mi raccontava che quando ci furono i primi dei reduci che tornarono a Roma ci fu un assalto a questi reduci da parte di tutte le famiglie che avevano avuto persone deportate chiedendo notizie dei loro cari. Allora l'organizzazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche organizzò dei comitati per poter trovare le persone scomparse. Questa lettera che abbiamo trovato in archivio è datata 26 gennaio del 1946 quindi a un anno dalla liberazione del campo di Auschwitz e questo fa capire come i percorsi di ritorno delle persone furono tortuosi e ci vuole tantissimo tempo. La testimonianza fa parte di una mostra in programma domani alla Sinagoga di Siena dove sono presenti diversi documenti che raccontano i tentativi di ricerca delle persone scomparse.